Adesso andiamo a Teano, un anno di chiusura per lavori di messa in sicurezza e ora la riapertura del teatro romano, testimonianza di quella che fu la più importante città romana del territorio dopo Capua. Antonella Fracchiolla. E' uno dei teatri più importanti dell'Italia antica, quello di Teano in provincia di Caserta, costruito su volte in pianto architettonico all'avanguardia per le soluzioni costruttive adottate al tempo e cioè alla fine del secondo secolo avanti Cristo, quando fu edificato. Un viottolo di campagna copriva quest'area prima della scoperta ed è ancora in piedi l'abitazione del colono che qui aveva il suo orto. Di tradizione ellenistica in età augustea il teatro venne modificato secondo le regole dell'architettura teatrale romana e fu poi completamente rinnovato nel terzo secolo dopo Cristo. La scena di dimensioni davvero grandiose misurava 27 metri di altezza. Quasi a vegliare sul luogo la Madonna secentesca detta Madonna del Viandante. Dopo importanti lavori di messa in sicurezza il teatro riapre i visitatori e si potrà vedere tutti i giorni tranne il martedì. Si lavora in sinergia tra Polo Museale della Campania, Comune di Teano e l'apporto di volontari. Alla manutenzione del verde collaborano anche i detenuti del carcere di Carinola. Questa è una stagione fertile in cui stiamo seminando, abbiamo riaperto il museo archeologico di Piano di Sorrento, siamo alla vigilia di epocali lavori di restauro a Santa Maria Capoavetere. Un territorio che mette assieme una grande bellezza ma anche una grande percentuale di disoccupazione giovanile. Dobbiamo colmare questo gap e i beni culturali possono essere il volano di sviluppo su cui scommettere con cognizione di causa.